Bortolussi, prima delle mail, ce ne scrivono tantissime, vorrei leggere almeno uno o due, quindi vi chiedo di essere rapide nelle risposte. Le leggo un'agenzia di qualche minuto fa. Una donna di 87 anni, di aggrigento, ha ricevuto un assegno pensionistico di 0 euro, 0 euro. La pensione mensile dell'anziana è normalmente di 572 euro, di poco superiore al minimo, ma nell'ultimo cedulino sono stati decurtati dalla somma 138,50 euro come rata IRPEF 2012 e 322,94 euro come a conto IRPEF 2013, quindi saldo 0. Questo mese niente pensione. Prego Bortolussi. Diciamo che ha fatto tombola. Vero? Fortunatissima questa signora, guardi ma così tonda che potrebbe giocarselo all'otto. Guardi la questione è di episodi così purtroppo ce ne sono tanti ed è veramente vergognoso che in questo... C'è un dato, non mi ricordo l'istituto, mi pare sia l'IRES, che in Italia con i soldi che spendiamo escono 12 persone dalla miseria, mentre per esempio in Irlanda con gli stessi soldi ne escono 60. Noi siamo uno degli unici paesi che riesce in questo primato, anche qui facciamo tombola. Però per me...